Allora, faccio una piccola premessa. Non accettiamo più strumentalizzazioni da politici su questo argomento, cosa che è successo ieri pomeriggio con una dichiarazione da parte di un politico che probabilmente non ha capito bene il problema di un crematologia e non ha capito bene di quello che sono le realtà del reparto. Quindi si è fatto carico di un successo che in realtà non esiste e quindi è ancora rimasto alla partenza, non è cambiato assolutamente nulla. L'unica cosa dell'incontro ieri è che forse per la prima volta riusciamo ad avere una risposta su quelle che sono le nostre proposte per trasferire il reparto di un crematologia all'interno del plesso ospedaliero. Però lo sapremo il 31 gennaio. Io personalmente sono scettico perché successivamente il managgimento aziendale a partire da marzo probabilmente cambierà. Quindi per noi non cambia assolutamente nulla. Avete svegliato questo problema per mettere luce su alcune criticità che riguardano il reparto e non solo? Io sono circa 7-8 anni che mi batto a favore del reparto di un crematologia perché è un reparto che ha bisogno e ha diritto a migliori servizi rispetto a quelli attuali. Il layout è angusto, i pazienti sono tanti, non c'è un rispetto della privacy. Per assurdo il reparto è vicino al reparto di malattie inventive. Un malato di un crematologia che ha le difese immunitarie molto basse, credo che chiunque capisca che metterlo vicino a un reparto di malattie inventive sia problematico. Non solo, poiché il reparto è fuori dal presso ospedaliero, spostare un malato di un crematologia in necessità di altre soluzioni, di altre malattie all'interno dell'ospedale diventa drammatico perché non esiste un collochiamento diretto con il presso centrale. Per cui noi sono anni che ci battiamo sugli spazi, spazi che non vengono riconosciuti, inadeguati dal management aziendale. Dopo diversi anni di battaglie contro un muro di gomma, per la prima volta nei nostri membri del comitato c'è personale che ha una professionalità tale che può contrastare quello che la direzione generale dell'ospedale ci dice da diversi anni. In poche parole sono stati individuati degli spazi al terzo piano che sarebbero ad hoc per il reparto di un comitato logica e quindi migliorerebbe a costi quasi zero quello che è l'efficienza del reparto. Grazie.